Così Mallera, do vita al ferro, opere d'arte, la mia anima la concretizzo con le opere. Fin da piccolo avevo un'officina, mio padre aveva un'officina e quindi scendevo giù a giocare con i pezzetti di ferro. Vuoi tirare fuori da quel pezzo di ferro, da quella materia rigida, qualcosa che dia emozioni alle persone. Riuscire a concretizzare in opera d'arte è una gran bella cosa, le soddisfazioni maggiori vengono quando riesci veramente ad emozionare le persone. Mi ritrovo spesso in tantissimi posti ad avere una penna, una matita in mano e non c'è momento, non c'è un minuto dove la mia mano non sta ferma. Vedi, vedi è ancora viva, vedi è calda, guarda. 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 Saverio Caracciolo per la CNews24